Musica Bentornati con le consuite previsioni a cura di Meteo One. Dopo il primo freddo e le prime nevicate a quote medie, il maltempo si sta allontanando rapidamente verso est, spinto dall'anticiclone delle Azzorre che tornerà a ridosso della penisola iberica e proverà ad allungarsi proprio verso di noi. Ma attenzione, un'alta perturbazione proverà ad insinuarsi nel Mediterraneo, puntando il Nord Africa. Ciò innescherà subito una risposta anticiclonica subtropicale che dovrebbe coinvolgere l'Italia a partire dalle zone tirreniche. Ma andiamo a vedere il tempo sulle nostre regioni per lunedì 14 novembre. Giornata molto nuvolosa con piogge che interesseranno da metà giornata la Puglia centro-settentrionale. Fenomeni via via in estensione entro Siria al resto della Puglia e della Basilicata. Temperature in leggero aumento ovunque, specialmente nei valori massimi. Venti in rotazione dai quadranti sudorientali. Per quanto riguarda i mari, invece, saranno mossi in particolare ancora in modo ladriatico. Oggi, per la consitua rubrica La foto del giorno, ringraziamo gli amici di Salento.it e la nostra telespettratrice Sabrina Gabrielli per questo rilassante scorcio di mare fotografato sulle spiagge di Santa Maria al bagno, nella Eccese. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione!